C'è stato presentato l'atto aziendale e non c'è stata data la possibilità neanche di poter esprimere una nostra idea, una nostra considerazione, qualche domanda sulla vicenda dell'atto aziendale che ci veniva presentato. Per l'ospedale di Scafati, cose meravigliose, cose strafiche. L'atto aziendale bocciato in toto, appellato come il libro dei desideri, è stato il sindaco di Scafati, Pasquale Liberti, infuriato dopo la presentazione dello strumento di programmazione ai 158 primi cittadini della provincia di Salerno ieri mattina ad esprimere parere negativo sull'intera programmazione sanitaria, evidenziando quelle che secondo lui sono le varie criticità per nulla risolte che collocano la sanità provinciale tra le ultime in classifica. Per servizi, prestazioni, efficienza, denigrato anche il progetto del mega ospedale di Salerno e l'aumento dei posti letto in talune aree della provincia, le croniche mancanze in altre aree e vi compresa la precarietà dei pronto soccorso. Siamo stati invitati dal direttore generale per visionare il nuovo atto aziendale, dice, ma poi ci è stato impedito di parlare. Non abbiamo potuto esprimere le nostre idee, considerazioni o domande, ma scoppia la polemica per la mancata possibilità di far porre domande o esprimere riflessioni ai primi cittadini e per quanto riguarda la battaglia a difesa dell'ospedale di Scafati sono rimasto isolato. Hanno parlato della riconversione di Scafati che dicono diventerà polo della riabilitazione con oltre 150 posti letto. Previste riconversioni straordinarie anche per Eboli, Roccadaspide e Polla con più di 170 posti. Dicono che sarà potenziato il servizio di emergenza da Scafati a Sapri. Tutto bene, tutto risolto, ha ironizzato così il sindaco di Scafati. Cose stratosferiche, cose straordinarie, questo lo devo dire naturalmente per i miei concittadini, ma lo dico anche per tutta la provincia di Salerno. avremo una grande sanità, una sanità che da Scafati fino a Sapri non ha uguali forse in Italia, almeno da quanto ci ha detto il direttore Sosto, perché ha parlato di una riconversione degli ospedali di Scafati, di Roccadaspide, sì anche di Roccadaspide, anche a Eboli, state sereni, state tranquilli, ad Agropoli senza problemi, è tutto ok, alla grande, 170 posti letti per Polla, pensate un po'. E noi che stavamo lì a guardarci l'ultimo atto aziendale, quello prodotto sempre dal direttore generale di questa azienda ospedaliera, che all'epoca era Giordano, approvato tra le altre cose anche dalla regione Campania, nel 2017, gennaio 2017, pensate che per Scafati erano previsti 120 posti letti. Parla invece di un grande cambiamento organizzativo che apporterà tante novità, sia dal punto di vista sanitario che amministrativo, il direttore generale Gennaro Sosto, al termine dell'incontro con le organizzazioni sindacali. Il nuovo atto ridisegna un'azienda pronta ad affrontare le sfide di una sanità che cambia. La grande sfida è quella di consolidare la rete ospedaliera aziendale, ma soprattutto quella di potenziare la rete territoriale. Ciò sarà possibile solo grazie ad una rinnovata e solida sinergia con tutti i sindaci e con tutte le amministrazioni comunali. Dunque chiede sponda il direttore Sosto. Intanto dagli uffici di Vianizza precisano che per l'Atlo Salerno il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, e gli atti di programmazione per la regione Campania hanno previsto una specifica misura di intervento per la salute, la Missione 6, che destina un finanziamento sul potenziamento e realizzazione di strutture territoriali supportate da una rete di prossimità e dallo sviluppo della telemedicina. Questa misura è destinata a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali come le case di comunità e gli ospedali di comunità, al potenziamento dell'assistenza domiciliare, allo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari. L'atto in sintesi prevede l'ospedale di Vallo della Lucania avrà a disposizione 286 posti letto, Agropoli confermati 100 posti letto, Roccadaspide 14 di medicina generale, 6 di cardiologia, 16 di lungodeggenza, 20 per l'ospedale di comunità, attivi il pronto soccorso e la radiologia. A Sapri 116 posti letto che condividerà l'oncologia con Polla e la medicina trasfusionale con Vallo della Lucania. Eboli e Battipaglia restano in un unico DEA, 152 posti per il primo, 142 per il secondo, 173 posti letto per Polla, 82 per Oliveto Citra. Pagani vedrà rafforzato il polo oncologico con la radioterapia. Grazie.